Andrea Damante sta per debuttare sul piccolo schermo. L'extronista di Uomini e Donne, che ha ampliato la sua popolarità partecipando al grande fratello VIP, ha sostenuto e superato un provino che l'ha catapultato nel mondo di Don Matteo, la fortunata fiction di Rai 1 che si prepara a tornare in prima serata a partire dall'autunno prossimo con l'undicesima stagione. È stato lo stesso Andrea ad annunciare la sua partecipazione alla fiction attraverso un video postato tra le sue storie su Instagram. Nel filmato in questione compare accanto a Maria Solepoglio, youtuber che ha cominciato la sua carriera sul web quando aveva solo 14 anni. I due sembrano entusiasti di partecipare alle riprese e hanno scelto di condividere la loro soddisfazione con le rispettive platee di Full Lovers sui social. Damante non è l'unico extronista di Uomini e Donne ad aver recitato nella fiction che è per protagonista Terence Hill. Prima di lui è toccato a Francesco Monte, attuale compagno di Cecilia Rodriguez. Anche al collega di Damante fu affidata una piccola parte. Francesco, che oggi sogna di diventare un attore affermato, ha reso le distanze dalla trasmissione condotta da Maria De Filippi che gli regalò la popolarità. Oggi si dice perfino disposto a trasferirsi all'estero, negli Stati Uniti, pur di realizzare il suo sogno. Anche Christel Carrisi figlia di Albano, ha recitato nella medesima fiction, mentre grossa curiosità suscitò la parte affidata a Belen Rodriguez, showgirl che è stata tra i volti noti che hanno preso parte alle riprese. La puntata che vide la partecipazione dell'Argentina fu un enorme successo in termini di ascolti. Chi se ne frega!